Ti ringraziamo per essere intervenuta a Sarata L'Onoro, anche da parte di Domenico Modugno e penso di interpretare il desiderio del maestro Modugno e anche quello di tutto il pubblico se ti chiediamo Vedi, applaudono sulla fiducia, ancora non sanno cosa ti chiederò se ti chiediamo per piacere ancora due minuti di felicità Due minuti, non è troppo Ogni sera vai a cantare, però non sei lontano da me Ed io non so del tutto abbandonata, segna no io ascolto un disco di te Un vecchio disco che mi dà due minuti di felicità Così mi sento più vicino a me Le sere che tu sei lontano da me E lo strigo qui sul mio cuore Che non mi rinca E lo strigo qui mi sento più vicino a me Grazie!